Alla saluto di donna Alfreda. Benissimo, alla saluti di donna Alfreda. Evviva donna Alfreda. Amici grazie, io brindo la salute di tutti gli amici. Evviva donna Alfreda. Evviva donna Alfreda. Salute. Buongiorno donna Alfreda. Buongiorno Nino. Che succede brigadiere Capone? Non restate a cena con noi? Mi dispiace donna Alfredo, resterei volentieri. Ma tra mezz'ora sono di servizio. Come volete brigadiere, però teniamoci in contatto. D'accordo, vi telefono se ci sono novità. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Brava persona il brigadiere Capone. È un amico molto utile. Qua io che puoi mangiare. Niente, grazie. Ho già cenato. Ah, ho capito. Vuoi le distanze? E noi ti terremo a distanza. Ma no, papà. Nino deve avere qualche altro problema. Sì, il problema lo tiene. È songhì. È o vero o no? È o vero. Io voglio i soldi. È subito. Donna Fredo, rimane festa e non lavoro. Quindi mi faccio un giro, raccolgo i soldi e ve li porto. Quello che rimane ve lo do un po' alla volta. Ormai vengo a un lavoro fisso. Queste promesse di pagamento le posso anche mantenere. Io ti posso aspettare solo se mi fai un piacere. E poi non ti pensi più. Dite, mi dà una fretta. Che volete? Una cosa di poco. Mi ha dato una mano a fare un lavoro di indagare il barone. Io lo voglio essere utile, però non posso trattare tutti i baroni. Mi ha lavato la mia sana vita e mi tratto con il mio figlio. Ma non dici la forza ria. Ma perché donna Alfredo non ti ha trattato con il mio figlio quando tu ne hai avuto bisogno? Tu sei scordato, eh? Perché io... Ho saputo che in da villa del barone ci stanno infiniti oggetti di valore. E per ricompensa, se tutto riesce bene, tutti li ho avuto debiti che tieni con me. Ma io non ho visto niente. Io non so se il barone che tieni. In da casa non c'è niente di valore. Sono tutti pezzicari. Di nuovo non ti sforzi di trovare queste scuse. Mi ha detto solo se vuoi stare con noi. Non lo so. Ma tengo a capo che mi c'è. E va bene, non mi le ha dimostra la risposta, ma lei rimane. Ci vorrei mettere a casa mia. Tanto rimane a festa, non devi lavorare. Puoi venire. D'accordo. Ci vediamo. Ciao. 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 Ciao.